Benvenuti a Luci in the Sky, non riesco a parlare con Marco Suma, devo dire che la serata è particolarmente ricca, caotica, però un minuto ti devo parlare. Tra poco partirà questa serata che tu hai ideato per festeggiare il primo compleanno della tua concessionaria MS Carlo, ricordiamo Corso Francia 222 a Collegno, una serata dove si parlerà anche di moda, non solo di vetture. Di moda spettacolo, infatti vedete com'è vestita questa sera per noi, Sonia? Sì, questa sera vogliamo festeggiare, ci abbiamo messo un anno perché non eravamo ancora pronti e abbiamo voluto fare un evento che venisse ricordato qui a Collegno, insomma, i nostri clienti, i nostri amici e i nostri futuri amici. E lei è Mirella Rocca, colei che ha organizzato questo evento Talent Scout, forse la più nota Talent Scout che abbiamo in Italia e di Torino ed è reduce da una ragazza per il cinema, un concorso nazionale importante che ti perde, ti porta a scoprire tantissimi talenti. Sì, è un concorso importante, prestigioso, penso che al momento sia proprio quello più eccellente in assoluto. C'è professionalità, ci sono professionisti come Garrison, Rossella Izzo, Fiorettanari, Federico Moccio abbiamo avuto quest'anno e adesso siamo qua, siamo qui per presentare questa bellissima serata di stasera e spero che sia a voi gradita. Fare a me non mai, mai un sogno è indispensabile, non hai vissuto se non hai sognato mai. Sì, sia sono No hai vozzato, non hai vozzato, non hai vozzato nei vozzatenni. Shining Sunshine Shining E io ho il piacere di vedere a luci in the sky anche il sindaco di Collegno, il dottor Francesco Casciano. E perché c'è il sindaco di Collegno? Perché MS Cars ha sposato con il comune di Collegno una bella idea, una bella iniziativa, un bel premio, un riconoscimento che verrà consegnato ad un insigne architetto. Sì, MS Cars ha deciso di rinnovare un mito collegnese perché queste architetture di Cotti rappresentano un segno indelebile nell'architettura di Corso Francia. Quindi un'opera assolutamente innovativa ancora insuperata nelle sue tecnologie. Quindi abbiamo la possibilità di avere un'ottima proposta commerciale in una grande struttura architettonica. Un'azienda importante del territorio di Collegno, un'azienda che festeggia egregiamente il suo primo compleanno. E questa sera ha ideato una serata diversa, auto, moda, musica e spettacolo. Questo è il titolo della serata, vogliamo divertirvi e stupirvi perché no, tanti gli ospiti, tanta musica, tanta bella gente e soprattutto tanta bellezza scenografica come potete ammirare. Dobbiamo ringraziare anche le protagoniste, gli ospiti della nostra serata che sono il Tulipano di Francesca Chimento e poi Rossetti Fashion. Ma questa serata soprattutto è stata organizzata da una grande talent scout, una turinese che sta riscuotendo successo a livello nazionale grazie al suo concorso che si chiama Una ragazza per il cinema. Però voglio ringraziare chi ci ha dato un aiuto che è Gilbert Panettoni che lì ha fatto Panettoni da una vita in via Cavagnolo a Torino ed è anche un amico carissimo Marco Viriglio. E poi vorrei ringraziare Fit to You che con cui noi collaboriamo nelle assicurazioni come AXA e Zurigo, qui abbiamo veramente presente il GOTA, i due GOTA. Quindi ringrazio Quirino Valandro e Giampiero Micale e poi Roberto Mongardi che è un grande amico. E poi volevo ricordare Easy Drive che noi usiamo anche per le garanzie su tutte le nostre vetture e qui in rappresentanza c'è un altro grande amico, l'amministratore delegato Ercole Messina. Dimentico forse qualcuno, sì Publi Steel per tutto quello che vedete, anche il cartellone dietro alle nostre spalle, luci in the sky. E poi naturalmente Estetica Nova che distribuirà durante la serata per voi proprio dei buoni in omaggio per un trattamento estetico nel loro centro che si trova a Rivoli in via Rombo 40. Motocicletta Motocicletta 10 HP Tutta cronata E tu a se dici sì Mi costa una vita Per niente la darei Ma ogni cuore è malato E so che cuori Buonanotte a tutti e grazie E poi ricordatevi di noi insomma Siamo qui, vi aspettiamo Ciao a tutti Ciao Massimo Non dire no Non dire no Non dire no Non dire no